Mi dispiace perché ci tenevamo particolarmente, perché visti anche i risultati potevamo metterci in una buona posizione di classifica, ma vorrà dire che dovremmo andare a recuperare la prossima Latina. L'andata abbiamo visto che loro giocano un buon calcio e anche se li conosciamo molto bene, però la verità è che ci hanno messo in difficoltà perché sono stati particolarmente bravi ad attaccare gli spazi. Ormai è andata, come ho detto prima, dobbiamo pensare alla prossima. Nicolás, che cosa è mancato secondo te della Virtus? Secondo me è mancato quel pizzico di cattiveria in più che nei finali di stagioni serve perché siamo in piena corsa a salvezza, quindi dalla prossima partita ci vuole tutti noi, dobbiamo mettere quel qualcosa in più per portarci alla salvezza.